12 criteri guida per la riforma della cura romana, i passi già compiuti e la speranza che il Natale, la festa che capovolge i criteri umani, sia anche la festa dell'incontro con Gesù, unico medicamento ai mali del mondo. Sono state queste le direttrici del discorso di Papa Francesco alla cura romana ricevuta per i consueti auguri di Natale. La riforma, detto il Pontefice, è segno di vivacità della Chiesa in cammino e allo stesso tempo un delicato processo che va vissuto con discernimento, coraggio, ascolto, preghiera, con il riconoscimento dei passi in avanti ma anche con la forza, se necessario, di fare passi indietro. Un cammino che va vissuto comunque con abbandono allo Spirito Santo. È necessario ribadire, ha aggiunto il Papa, che la riforma è un processo di conversione. La riforma per questo non ha un fine estetico, quasi si voglia rendere più bella la curia. ne può essere intesa come una sorta di lifting, di maquillage, oppure di trucco per abbellire l'anziano corpo curiale, e nemmeno come una operazione di chirurgia plastica per togliere le rughe. Cari fratelli, non sono le rughe che nella Chiesa si devono temere, ma le macchie. In questa prospettiva occorre rilevare che la riforma sarà efficace solo e unicamente se si attua con uomini rinnovati e non semplicemente con nuovi uomini. Non basta accontentarsi di cambiare il personale, ma occorre portare i membri della curia a rinnovarsi spiritualmente, spiritualmente, umanamente e professionalmente. Senza un cambio di mentalità, ha continuato il Papa, ogni sforzo sarebbe vano, innegabile la presenza di resistenze. Ci sono quelle aperte, che nascono dal dialogo sincero, quelle nascoste dai cuori impauriti, pronti solo a parole a cambiare, e poi quelle malevole, che germogliano in menti distorte. Persone che si rifugiano nelle apparenze, nelle formalità, in parole giustificatrici. L'assenza di reazione, ha affermato Francesco, è segno di morte. Missionarità, razionalità, modernità, sono stati alcuni dei criteri indicati dal Papa, che ha ribadito la necessità di aprire ai laici quei dicasteri dove possono essere più competenti dei chierici e di valorizzare la donna. È un cancro, ha aggiunto la pratica di promuovere per rimuovere. Dopo aver ricordato i passi avanti compiuti con l'accorpamento di alcuni dicasteri, il Papa ha fatto i suoi auguri di Natale, ricordando che è la festa dell'umiltà amante di Dio. Grazie.